Vorrei proteggere Forza Mike Perché il mondo non è giusto Perché sei solo Sabato a tutti, benvenuti alle interviste autogestite di Amici 16 Profondo, malinconico nello sguardo e solare nel sorriso Così lo ricordano in un lungo messaggio accompagnato da queste immagini Maria De Filippi e la redazione di Amici La scuola che l'ha lanciato, la famiglia artistica che oggi saluta Michele con più dolore Sui social sono tantissimi messaggi d'addio Tra cui Ricky, Briga, Federica Carta, K7 Tutti gli ex studenti del talent Uniti dallo stesso sogno di Mike Bird Cantare Emma gli ha dedicato il concerto all'Arena di Verona Negli ultimi istanti in cui lui lottava per la vita Ed è a lui che dedico tutto questo concerto e tutto il nostro calore Vorrei proteggerti da tutto Tu stella contro l'universo Ma più di tutto sono quelle parole firmate da Maria De Filippi a raccontarlo meglio È quella tua sensibilità, quella profondità d'animo e di pensiero Quella capacità di scavare negli abissi dell'animo umano Che ci porteremo dentro per sempre Fa buon viaggio Anche se non ci trovi un senso Grazie a tutti Grazie a tutti